amici viaggiatori ben arrivati e vi stavamo aspettando qui all'albergo del viaggiatore noi viaggiamo per viaggiare per scoprire e imparare sempre cercare di allegria nello spazio con la fantasia sembra pronto a partire il carrozzà il carrozzà il caccia niente meno che il capitano acqua calda forzo forzo auga 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 ogni volta conduce in una stanza diversa dall'altra perché ogni viaggio è sempre diverso da un altro e io sono il signor ulisseio e io sono il signor cristoforo noi siamo i custodi dell'albergo del viaggiatore e siamo proprio felici che abbiate deciso di passare da qui quest'oggi ciao 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 ciao